Ciao a tutti e benvenuti su Ticino Trek & Bike, il canale YouTube che vi accompagna a piedi in bicicletta alla scoperta della Valle del Ticino. Oggi volevo parlarvi della grangia di Bofalora che vedete alle mie spalle. Siamo sulla piazzetta del paese che si apre sul Naviglio Grande di fronte all'imbarcadero. Ma prima di tutto, che cos'è una grangia? La grangia era una comunità agricola medievale la cui organizzazione economica e amministrativa era affidata ai fratelli conversi. Chi erano i fratelli conversi? Dobbiamo sapere che le prime comunità certosine erano costituite dai padri e dai fratelli. I padri o monaci del chiostro erano i sacerdoti o i futuri sacerdoti. I fratelli erano invece monaci laici, ovvero religiosi che affiancavano alla vita di preghiera una vita manuale molto più intensa di quella dei padri. Prima di tornare a parlarvi della grangia di Bofalora voglio farvi fare un salto indietro nel tempo. Ci trasferiamo nel 1396 e ci trasferiamo anche al castello di Pavia. Questo perché dobbiamo assistere ad un evento storico. Giangaleazzo Visconti dona ai monaci certosini vasti possedimenti come rendita per erigere una chiesa e un monastero. Poco tempo dopo cominceranno i lavori per la certosa di Pavia. Cosa c'entra tutto questo con la grangia di Bofalora? C'entra perché tra i possedimenti donati da Giangaleazzo Visconti ai monaci certosini rientravano anche alcuni terreni qui a Bofalora. Contemporaneamente alla costruzione della loro certosa i monaci pavesi avviarono quindi anche i lavori della grangia di Bofalora. Sorsero così i primi fabbricati, i portici sopra la strada e le sue adeacenze. Gli stili e materiali sono simili a quelli utilizzati per la certosa pavese. Notiamo volte a crociere in mattoni sorrette da pilastri in granito con capitelli scudati. Successivamente furono realizzati gli altri fabbricati e le strutture necessarie alla conduzione della grangia che nel suo complesso era costituita da stalle, porticati, granai, cantine e magazzini. Per la loro posizione gli ambienti dei portici ebbero nel corso dei secoli importanti destinazioni. Furono utilizzati come stazione di posta con osteria ed alloggio, come pesa pubblica e come dazio. Durante il periodo austriaco gli edifici furono adibiti a dogana. E con questo è tutto, direi che possiamo riprendere il nostro giro. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se vi piace seguirci alla scoperta della Valle del Ticino. Un cordiale saluto a tutti da Claudio di Ticino Trek & Bike.